Amici di Milan.soccer, eccoci, un nuovo appuntamento, il primo amore non si scorda mai, Terrazza Milan, prime puntate, ve le ricordate, il primo format, qualsiasi posto, cercavo una terrazza e beh ogni tanto rientra, Terrazza Milan questa volta deve parlarvi di una cosa importante, prima di iscrivervi però ci tengo che ci pensiate, perché è giusto che sia così, se vi fa piacere stare con noi allora la richiesta è sempre la stessa, l'iscrizione e se vi fa piacere anche un pollice, è giusto il rispetto di ogni opinione, possiamo piacere come possiamo non piacere, allora se volete poi potete anche attivare la campanella per rimanere collegati, tre appuntamenti al giorno, la mattina, il pomeriggio o meglio la mattina presto alle sei a mezzogiorno e poi nel pomeriggio per accompagnare a fine serata i nostri pensieri rossoneri. Allora andiamo per gradi, io ho bisogno di parlare dell'inchiesta Milan che sta acquisendo delle caratteristiche abbastanza strane, ecco la parola giusta è strane, perché i tempi della giustizia italiana sono quelli che sono, ciò nonostante il Milan ha continuato la sua attività, però con tutta una serie di azioni denigratorie che non hanno fatto bene, neppure alla fine di questo nostro percorso con Pioli, alla fine del campionato, secondo me un po' abbiamo risentito di quell'atteggiamento, ma dicevo ne parliamo tra un attimo, prima ci tenevo a parlare, come detto nell'ultimo video, delle questioni relative ai rossoneri che in questo momento sono in prestito in giro per il mondo. Stamattina abbiamo parlato di Charles de Quetelare, ma dobbiamo parlare anche di Alexis Salemacher che sono stati sicuramente protagonisti, sia con l'Atalanta che con il Bologna, e poi ancora di Voccorighi, de Ballotouré che hanno fatto un flop clamoroso in Inghilterra con rispettivamente il Nottingham Forest e il Fulham, e diciamo così per quanto riguarda la questione di questi quattro la dobbiamo catalogare in questi termini, Decateler sicuramente prestito con diritto di riscatto a 22 milioni più bonus e percentuale sulla futura rivendita, quindi quando abbiamo denigrato Paolo, è vero l'abbiamo acquistato ad un prezzo più alto, diciamo che in qualche modo avrei avuto voglia di vederlo al Milan con un altro allenatore, comunque infatti con Gasperini all'Atalanta è rinato ed è stato uno dei protagonisti, poi che cambi un giocatore tra una squadra e l'altra ci sta, giocare con l'Atalanta non è come giocare col Milan, San Siro non è come lo stadio di Bergamo, eccetera eccetera. Comunque teniamo presente che tra qualche ora si giocherà anche una finale di Europa League con il Bayer Leverkusen, ha realizzato 14 reti, 9 assist, 47 presenze, anche Salema che era andato bene con il Bologna, direi benissimo, in prestito diritto di riscatto a 10 milioni, potrebbe essere lui la carta per arrivare alla questione al giocatore Zirk Zee, il centrocampista è sicuramente come dicevo stato uno dei migliori per la cavalcata alla conquista della Champions, cioè di una posizione in Champions, 4 reti, 3 assist e tanta quantità nella partita con Tiago Motta. Qualche incertezza su Maldini, Colombo che sono al Monza e Pellegrino alla Salernitana, sono in questo momento oggetto di valutazione. Io una maglia del Milan con la scritta Maldini la gradisco sempre. In altre categorie è Nasti, Ciacca Traoré, Davis Vasquez e poi Bonsolana, Gala, Omer e Begbe, Orighi e questi li abbiamo detti insomma. Vabbè, questi sono giocatori che ci interessano un po' meno considerando che alcuni hanno fatto proprio male ma il loro rientro non ci dà un valore aggiunto per quanto riguarda le possibilità di autofinanziare la sezione di mercato. In effetti noi in questo momento stiamo pensando alla sessione di mercato come finanziarla perché la regola è vendi e compri e sarà così per tutti e qui mi viene il dubbio della questione Bayer Monaco con il nostro Theo Hernandez. Trovo delle conferme in Germania, delle smentite in Italia per cui non ne ho parlato fino adesso per questo fondamentalmente. Ma arriviamo invece alla questione relativa alle indagini, alle indagini che sono all'inchiesta se vogliamo in corso che sta riguardando il Milan. Qualche settimana fa abbiamo parlato della parallela inchiesta sulla vendita del Milan anche in Lussemburgo. Andiamo per gradi però andiamo per ordine. Il tema dell'inchiesta sul Milan che vede quindi coinvolti come indagati l'attuale e il vecchio amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani e Ivan Gazidis, è stato ripreso ancora una volta dal più importante quotidiano nazionale che titola in questi termini il Milan è sciolto da tutte le accuse per quanto riguarda la questione lussemburghese. Ma la questione che viene ripresa si pone in questi termini, c'è un processo che era iniziato su impulso dell'ex socio di minoranza Blue Sky e che partiva dalle stesse basi dell'inchiesta oggi in atto a Milano e non può che trovare lo stesso tipo di soluzione. Cioè stiamo parlando, e questo è importante, di un'inchiesta parallela, sempre avviata dall'ex socio di minoranza Blue Sky in Lussemburgo e a Milano. In Lussemburgo hanno chiuso subito dicendo, è stata riproposta tre volte, dicendo non luogo a procedere, restituite tutti i beni che erano stati sospesi perché il Milan è prosciolto da ogni tipo d'accusa. In Italia ci sono delle lentezze burocratiche, non lo so, ma sicuramente l'indagine, così come dice, ripeto, questa fonte autorevole, è la stessa indagine ma riproposta sul territorio nazionale. Quindi si attende solo la sentenza di chiusura, così come è stata per il Lussemburgo. Io mi auguro e spero che questa indagine, inchiesta, chiamatela come preferite, si chiuda al più presto, ha sicuramente inciso sul finale del nostro campionato, ha sicuramente tolto in termini di immagine un'altra stellina, visto che si parla tanto di stelle, di gradimento rispetto al nostro club che dunque a livello internazionale è stato a tutti gli effetti sbugiardato, preso in giro. In questo caso adesso chi paga? Cioè chi è che ci ridà quella dignità persa con tutte quelle immagini della macchina delle guardie di finanza che arrivano a Milanello, che arriva a Casa Mila? Perché bisogna trovare i trafiletti così adesso per sapere come stanno andando le cose. Invece quando è arrivata c'erano titoloni così e oggi titoloni così sono per un signore che non ridà soldi né ad una banca di Stato e né a creditori che gliel'hanno prestati, eppure si osanna questo signore, allora o uscite voi fuori dalle ipocrisie oppure i canali come questi continueranno a dirvi che vi state comportando in modo diseducativo rispetto ai giovani che sempre più, essendo intelligenti, stanno abbandonando il mondo del calcio. Non date spazio ad un Milan che viene assolto in Lussemburgo e che deve essere assolto in Italia per lo stesso tipo di causa, ma date spazio e titoloni e pagine, oggi la Gazzetta dello Sport metteva il Milan alla ventitresima pagina, ma date spazio e titoloni ad un signore che non ha restituito i soldi alle banche, che non ha restituito i soldi a creditori, osannandolo come vincitore. Io veramente, non ce l'ho, ho nipoti, ma se avessi un figlio gli direi guarda, ecco, il golf, che almeno se lo calcola nessuno e almeno lì non lo so se ci sono cose, però perlomeno lo terrei fuori dal calcio. Dite perché sono malato di Milan. Tutto qui. Ciao. E non passa.